La morte di Donatella Campagnaro, 53 anni, bidella alle scuole elementari di Fiumicello, ha lasciato per oltre 6 ore la provincia di Padova col fiato sospeso. Sulla tragica fine della donna infatti aleggiava il sospetto della rapina finita nel sangue, incubo in cui è sprofondata tutta l'alta padovana fino a sera. La morte però sarebbe legata ad un incidente domestico. La donna è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue. Non vedendola arrivare al lavoro, il dirigente della scuola ha dato l'allarme, prima contattando le sorelle, poi allertando i carabinieri. Gli uomini dell'Arba si sono trovati quindi davanti alla scena cruenta, non escludendo nessuna pista, compresa la morte violenta. Solo dopo i rilevamenti della scientifica e del medico legale, è emerso che la donna è mancata per un malore. Secondo una prima ricostruzione, Donatella Campagnaro ha sbattuto violentemente la testa provocandosi una grave ferita e perdendo molto sangue. Probabilmente sotto shock e non capendo la gravità della lesione, ha subito provato a pulire il pavimento dal sangue, svenendo però poco dopo. Chi la conosceva la descriveva come una persona buona. Ho fatto tutta la scuola elementare là, il permesso di lei, di loro, ho conosciuto, era una donna bravissima, guarda, non scrivete niente altro, sino che era brava, brava, brava. Mi dispiace tantissimo, proprio tanto, tanto.